Come un ragazzo ha i capelli giù, porto il maglione che porti in tu e con la cinta mi tengo su i pantaloni. Come un ragazzo mi ostino un po' e quando guardi negli occhi... Ciao! Ciao! Questo è il centro Veneto Progetti Donna, questa è la nostra sede che ci è stata data in concessione dal Comune, noi abbiamo due stanze che sono delimitate dalle porte gialle, le altre stanze ce le prestano le associazioni di donne che condividono con noi gli spazi. Io sono Giorgia, sono una volontaria qui e mi occupo di seguire l'attività dei laboratori creativi e anche di controllare la mail. Io sono Adelina, vi presento le mie colleghe. Io sono Cristina, psicologa, psicoterapeuta e accolgo le donne che si rivolgono al centro. Sono psicologa, psicoterapeuta, sono Ioana. Sono una volontaria del centro e rispondo alle donne che chiamano al numero verde 881 4681. Il centro Donna nasce nel 1990, è nato come sportello all'interno del sindacato, era uno sportello che accoglieva le donne. Nel giro di pochi mesi le fondatrici di questo centro si sono accorte che tutte le richieste che arrivavano allo sportello erano richieste che riguardavano la vita quotidiana delle donne, soprattutto problematiche che riguardavano la vita di relazione della famiglia, della coppia e quindi dopo pochi mesi si è deciso di farlo diventare un'associazione autonoma e è iniziato il percorso del centro Veneto Progetti Donna così come lo conosciamo adesso. Il centro Veneto Progetti Donna non è solo accoglienza delle donne ma è anche sensibilizzazione, attività di informazione e progettazione. Abbiamo assistito negli anni ad una costante crescita dei dati che riguardano la violenza. Se hai bisogno di aiuto. Se conosci una donna che subisce violenza, chiama il numero verde 881 4681. Che nessuna resti sola.